Vieni qua, vieni qua, vieni qua, vieni qua, che ti sbaglio! Lasciatemi stare, non vi voglio più vedere, lasciatemi stare! Anche c'è sempre la stessa cosa, sono veramente arrabbiata, davvero, isterica, anzi, di più una bestia! Uff, 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 uh, ah, 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 ah! Ora sì, ormai non esiste più la parola rispetto, per esempio, cammini semplicemente per strada e ti senti dire, ma è tutta roba tua! Che gentili, ma secondo loro, secondo loro, di chi possono essere se sono attaccate a me da quando sono nata? Più o meno! Ma la verità è che non sono arrabbiata per questo, e no, c'è un altro motivo, non ho nemmeno per colitigato con il mio fidanzato, magari fosse quello il motivo. Lasciate che vi spieghi. Ieri sono stata dal ginecologo. Beh, ero, come dire, un po' imbarazzata, un po' preoccupata, quando sono entrata nel suo studio, perché era la prima volta che facevo una visita interna con me. Ho visto il dottore seduto alla scrivania, che mi ha detto subito, si tolga pantaloni e mutandine e si posizioni sul lettino. Che paura! La sua voce era decisa, asciutta, così come il suo comportamento durante l'intera visita, freddo, un iceberg. Beh, io non mi sentivo a mio agio, speravo che lui capisse la mia vergogna aiutandomi a superarla. Invece, no, 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 ha continuato a trattarmi come un oggetto! Ah! Minita la visita, bel friscio! Ah! La carta di credito e vado via! Ho usato una chiave! Non mi sono svegliata con i dolori trovate la mia farfallina! Così, prima di venire da voi, sono passata da lui. Sono entrata nel suo studio spalancando la porta e gli ho detto chiaro e tondo. Sono veramente arrabbiata, davvero incazzata. Ho bisogno di sapere che cos'è tutto questo schifo che ci infilate dentro e se davvero necessario. Allora è che cos'è questa faccenda? Perché c'è in giro l'esercito di scienziati che st'oggi sono morti per torturarci alle povere, gentili, amorevoli fanciulle? Ah, perché passano le loro giornate a sconchitare psicoprodotti e idee orrende per distruggere la mia passera? Se stronzi! E lui? Sapete cosa mi ha risposto a lui? Non posso farci nulla, dandomi della passessoria insoddisfatta a me! Ora sì. Allora io mi sono seduta con calma e gli ho detto che non me ne sarei andata di là finché non avesse capito uno dei tanti problemi in questione. Quindi, gli ho fatto un esempio. Che cos'è questo? Che cos'è? Che cos'è? Che cos'è? Che cos'è? Nessuno lo sa? Che cos'è? Che cos'è? Oh, che cos'è? Chi lo sa? Non lo sa nessuno. E va bene. Ve lo dico io. Un tampone. Un tampone di cotone asciutto che bisogna infilarsi dentro. E' vero, hanno inventato anche gli assorbenti con le ali. Ma io ho paura di volare. E poi a me chiedo, mi domando, ma perché non trovano un modo per agevolarci la vita e sentire meno dolore? La mia vagina appena lo vede è uno shock, mi dice E si chiude. Ma chi li ha inventati quegli esami? Perché non trovano un modo migliore per fare quegli esami? Perché con guanti di gomma? Perché con l'abito di carta? Perché con le staffe di ferro? E' quell'orrendo dilatatore che si allarca dentro di me. Ma non vi fa girare le palle? Sia tranquilla, respiri, si rilassi e vada lontano con la mente. Ma dove cazzo vuoi che vada? Sono mica scema, ecco. Sono mica sì, ma scema no. E per di più sono anche intelligente. Oltre che bella hai tu. Sa cosa mi sta succedendo? Mi devo rilassare così tu puoi raschiare un pezzettino di me per quel tuo stupido esame. Facciamo solo un banale striscio, ma chi ci crede in più? E poi... E poi alla fine gliel'ho detto che bastava poco per rendermi felice. Bastava un po' di gentilezza, un po' di comprensione, insomma un po' di rispetto. Ora si è... Maria Deci e tu... Grazie. Grazie.